Ciao, sono appena tornata, non ve ne avevo parlato, è un seminario che non è che lo sto frequentando, lo sto seguendo, non lo sto, insomma avete capito, interessante di quelli che si fanno ogni tanto, generale, su quello che è l'andamento e mi è capitato di rivedere come capita in questi casi una persona che non vedevo da tempo, devo dire che questo incontro mi ha molto molto colpita e sono stata molto contenta di rivedere questo uomo, perché ormai un uomo, quando ci siamo conosciuti eravamo dei ragazzi e adesso invece ho trovato un uomo maturo, interessante, molto ecco, una persona che ha un percorso molto diverso dal mio, che ha un approccio alla terapia, lavoro senz'altro diverso, lui si chiama, mi fa veramente venire in mente proprio dei momenti passati, ahimè, insomma fa uno strano effetto, puoi rivedere delle persone dopo tanti anni che non si sono viste, che si sono perse di vista, se ne apprezzano senz'altro molto di più le qualità col passare del tempo, si vedono molto più chiaramente i difetti, le differenze, ma gli uomini migliorano con il passare del tempo, c'è da dire questo e insomma, Stuart è una persona senz'altro molto diversa da me, tra l'altro ha avuto, credo anche che abbia avuto dei problemi con delle pazienti, adesso non vorrei dire, ma credo che abbia avuto degli approcci un tantino pesanti, relative proprio al rapporto, insomma, io lo rivedrò in questi giorni e sono molto contenta, ecco. Saluto Stuart e saluto tutti quanti voi.